20 febbraio 1953. Muore il politico italiano Francesco Saverio Nitti. Nitti è stato per il biennio 1919-1920 il primo presidente del Consiglio proveniente dalle file del partito radicale storico, una formazione politica di sinistra nata alla fine dell'Ottocento con ideali mazziniani e garibaldini. Nitti è stato anche un grande meridionalista e nei suoi saggi ha più volte sostenuto la necessità di una progressiva industrializzazione del mezzogiorno.